Entro la fine dell'anno dunque dovrebbero iniziare i lavori nel parco di Villa Olmo, ma il condizionale è d'obbligo visti i continui slettamenti. L'inizio del cantiere è noto era previsto per lo scorso marzo, poi però proprio in quelle settimane era stato presentato il ricorso dell'azienda che si era classificata a seconda nella gara d'appalto. Ad aprile il Tar aveva rigettato la richiesta, rinviando a fine ottobre la sentenza di merito. Nel mezzo però il Comune ha potuto procedere e sono state necessarie anche alcune modifiche al progetto originario. Rinvio dopo rinvio un'altra scadenza era stata fissata per la fine di novembre, oggi gli ultimi aggiornamenti a margine della presentazione dei restauri delle statue davanti alla dimora neoclassica. È stato un percorso lungo, fino adesso pieno di imprevisti e di difficoltà, però insomma credo che tutti quanti saremo ripagati del risultato, quindi incrociando le dita manca poco. 12 mesi di cantiere da contratto? 12 mesi contrattuali, avremo le prime indicazioni appena la consegna del cantiere avviene e quindi saprò essere più precisa anche sul procedere dei lavori. Il cantiere interesserà il parco e l'orto botanico, saranno previste giornate di apertura al pubblico per poter osservare da vicino la trasformazione. Seguono da tempo l'evolversi della situazione e i continui slittamenti il consigliere comunale del gruppo misto, esponente di Fratelli d'Italia Marco Butti e l'ex consigliere Mario Molteni. Secondo le promesse dell'assessore Gerosa i lavori sarebbero dovuti partire entro il 30 novembre e invece siamo qui a denunciare l'ennesimo ritardo, hanno detto oggi. Inoltre era stato garantito che a giugno sarebbe stato presentato il piano di gestione per Villa e Parco e invece in Comune nessuno ne sa nulla. La verità, sottolineano, è che l'intera operazione su Villa Olmo rischia di essere un pesante fardello lasciato in eredità dalla Giunta Lucini a chi arriverà dopo di loro.